Ospedale di Agropoli, quale futuro? Si è svolto lunedì 1 novembre alle ore 18.30 in diretta televisiva il programma organizzato dall'emittente Cilento Channel. Al focus sono stati invitati i tre sindaci dei comuni più grandi del Cilento che fanno parte del distretto 70, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il sindaco di Capaccio Pestumo Franco Alfieri, il sindaco di Castellabate Marco Rizzo, l'assessore alla sanità del comune di Agropoli dottorissa Rosa Lampasona. Inoltre sono stati invitati alla trasmissione anche il direttore dell'Asra Salerno, Mario Iervolino, e il direttore sanitario del presidio ospedaliero Vallo Agropoli, Adriano De Vita, ma non hanno partecipato. L'obiettivo è stato quello di fare il bilancio sull'attività del nosocomio agropolese come Covid Hospital, sollecitare la sua naturale ricollocazione nella rete dell'emergenza urgenza, individuare la strada da percorrere. Qualche cosa è accaduta per il presidio di Agropoli dal 2017, spiega Franco Alfieri, nel nuovo piano approvato dalla direzione dell'Asl, Regione Campania e dal Ministero, il presidio rientra nella rete dell'emergenza perché vi sono sei posti di rianimazione. Abbiamo ascoltato il governatore che ha detto delle cose e dal 2015 in avanti, quando vi è stato un cambio, qualche cosa è accaduta. Siamo soddisfatti? No. Dobbiamo attendere che le cose che ci sono state dette debbano accadere? Sì. Lo vogliamo? Certo, e staremo attenti che le cose accadano. Nel 2015 è stato riaperto il laboratorio radiologia, nel 2017 è stato aperto il pronto soccorso, anche se non era nella rete dell'emergenza con 20 posti letto. Nel frattempo sono state attrezzate le sale operatorie del WIC surgery. Abbiamo scelto e voluto che diventasse Covid Hospital perché con questo servizio al territorio importante si sarebbe attrezzato l'ospedale con la rianimazione, tante che nel nuovo piano approvato dalla direzione generale, dalla Regione e dal Ministero, Agropoli rientra nella rete dell'emergenza perché vi sono sei posti di rianimazione che sono le attrezzature che sono state ottenute e oggi sono presenti con il Covid Hospital. Quindi non bisogna essere contenti, non bisogna aprire la bottiglia, ma rispetto al secondo capitolo della chiusura, rispetto a quello che De Luca ha detto, che non sono stati annunci perché oggi sono nella programmazione della Regione. E c'è un'altra grande novità. C'è la questione della Camera Iperbarica. Sapete benissimo che, o meglio chi lo sa, Agropoli era destinatario, sempre con l'articolo 20 del Regge 67 dell'88, di 3 milioni di euro, che erano giacenti, che erano destinati ad Agropoli. Si è riusciti a farli impegnare, anche qui De Luca, quando fu inaugurata la discarica di Gorgoli e della Bonifica, fece quell'annuncio e si è andata avanti. Quindi Agropoli sarà sede della Camera Iperbarica, una spesa di 2 milioni di euro, perché vi era una vecchia Camera Iperbarica autorizzata a Camerota, che non c'è più, quindi si utilizzerà quella autorizzazione già esistente, una spesa di 2 milioni di euro. Ma queste sono cose che accadranno, e sono certo che accadranno, nel momento in cui, e ce l'auguriamo, la questione della pandemia cesserà, perché fin quando Agropoli sarà Covid Hospital, tutte queste cose, il pronto soccorso, la rete dell'emergenza, la week surgery, quindi le due sale operatori, la rianimazione, quella, diciamo, di rete ospedaliere di emergenza, e anche la Camera Iperbarica, hanno un senso, se cesserà, insomma, la destinazione di Agropoli come Covid Hospital. C'è una programmazione che ha sostituito quella vecchia, e che ci vede oggi, nella rete dell'emergenza, che vede sale operatori attrezzate, che vede la rianimazione attrezzata, cioè abbiamo fatto pass, certo si doveva fare prima, ma non si doveva nemmeno chiudere nel 2013. Assolutamente sì, questo sì. Io dico, sono d'accordo, perché questo può capitare a tutto, è capitato al ragazzo di Castellabasso, può capitare a mio figlio di 23 anni. Voglio citare mio figlio, perché io sto qua. Però, purtroppo, non possiamo dire, si doveva, oggi, rispetto a quello che è stato, siamo nella programmazione della Regione. Le cose non sono avvenute ieri, perché siamo presidio Covid. Però io dico, non è che cessa l'emergenza Covid, dobbiamo fare la gara per la rianimazione, la gara per le sale operatori, sono già lì. E poiché noi siamo nel presidio ospedaliero Vallo-Agropoli, una ridistribuzione del personale può consentire l'immediata attivazione della rete dell'emergenza di Agropoli. Però fare un guaio, se ci mette un attimo la chiusura, riaprire un ospedale è difficile, è laborioso, è faticoso, non siamo l'ombelico del mondo, per quanto ci possiamo strappare la camicia, ma noi lo faremo, ci impegneremo ogni giorno, perché noi stiamo qua. Il diritto alla salute viene prima delle altre cose, dell'impianto sportivo, del teatro. La rete dell'emergenza, che sembrava una cosa impossibile per Agropoli, non solo c'è, ma non solo c'è, ma c'è anche già la... ci sono sei posti di rinimazione già attrezzati, c'è essa la pandemia, il giorno dopo la rinimazione è già pronta, le sale operatori sono già pronte, abbiamo speso quattro minuti di... E la camera è perbarica, per dire, che non è soltanto la questione di chi si annega a mare, ma fa tutta una serie di terapie, ha bisogno della rinimazione per forza, quindi anche con la rinimazione che è stata strappata, e vi dico che sul territorio c'erano, insomma, appetiti diversi su tutta la fascia costiera, da Salerno fino a Sapri, e l'abbiamo spuntata qua, con un investimento di 2 milioni, rafforza ancora di più, l'emergenza rafforza ancora di più l'ospedale sul territorio. Ad intervenire sulla tavica domanda, che in tanti si chiedono dal 2017 ad oggi, riguardo l'apertura del pronto soccorso e dei servizi annessi, è stata la dottoressa Rosa Lampasona, che ha chiarito, dopo anni di silenzio e incertezze, quello che oggi la struttura ha ottenuto. Oggi, parliamo di oggi, cos'è l'ospedale di Agropoli oggi? È un pronto soccorso, non è un pronto soccorso, non è un pronto soccorso, è un primo soccorso, è inutile che parliamo di pronto soccorso, allora chiariamoci, diciamo la verità, va bene, siamo qui per avere la verità, diciamola, è venuta qui perché voglio dire la verità, ok, senza polemiche serie, attualmente l'ospedale di Agropoli ha un primo soccorso, cosa che aveva già, da quando è stato riaperto, ci hanno ridato, questo nel 2017, voi sapete, beh, come ha detto il sindaco Alfieri, nel 2015 è stato riaperto, la radiologia, il laboratorio, che non c'erano, 2017, primo soccorso, è poco, è pochissimo, non è niente, però capiamo, se ci deve essere un pronto soccorso, pronto soccorso, ci devono essere i servizi alle spalle, perché questo significa, un primo soccorso, che è quello che c'è tuttora, è quello che può avere una struttura compatibile, come ha definito il Presidente Dio, perché se io ho un pronto soccorso, devo avere alle spalle, alle spalle, un'ortopedia, una chirurgia, una urologia, una cardiologia, se arriva il paziente, in Agropoli, che non c'è, reanimatore, non c'è cardiolo, non c'è chirurgo, non c'è orto, non c'è niente, cosa arriva a fare? Sono d'accordo, sul fatto che non sia un pronto soccorso attivo, e che è un primo soccorso, siamo d'accordo, che non basta, siamo d'accordissimo, che bisogna seguire le cose programmate, bisogna che le cose avvengano, immediatamente dopo il Covid, quindi che ci sarà un impegno massimo, sono però cosciente, che rispetto a com'era, anche negli atti della programmazione, c'è un forte incremento dei servizi, e il rientro nella rete dell'emergenza, quindi è soltanto una cosa sulla quale, bisogna pretendere che avvenga il più presto, e immediatamente dopo, la fine del Covid, poiché le sale di animazione, sono già pronti, le sale operatorie, sono già attrezzate, e sono stati spesi milioni di euro, io credo che siamo nelle condizioni, di poter ottenere le cose, che sono state programmate. Ad ammettere e soprattutto a sottolineare, che il Presidio ospedaliero di Agropoli, ha delle reali criticità, è stato anche il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, nessuno di noi è contento, per tutte le criticità esistenti, ha detto. Quello che sta emergendo, a me stasera, è proprio il fatto, che ci sono una serie di carenze, sicuramente, perché ogni sindaco, rappresenta i diritti del cittadino, questo credo che sia un fatto fuori dubbio, indiscusso. Tuttavia, come sento già stasera, sicuramente ci sono delle criticità, la dottoressa Lampasone, le stava elencando in maniera diretta, proprio perché lei vive questa realtà dell'ospedale Agropoli, quindi non dimentichiamo che dal 2015 ci sono fatte una serie di cose. Io proprio oggi leggevo il piano di riordino ospedaliero, Agropoli c'è nel piano di emergenza, è ovvio che qualcosa non ha funzionato in maniera totale, noi ce lo dobbiamo dire, caro Gianni, perché la pandemia purtroppo ha bloccato una serie di cose, e questo è un dato di fatto, ahimè, ma del quale noi, io personalmente, i colleghi altrettanti, nessuno di noi è contento di questo stato di cose, perché ci sono ancora carenze, da carenze di personale, carenze di ambulanze medicalizzate, che possono intervenire in tempi più ravi, è ovvio che c'è ancora da fare, c'è un percorso non completo. All'ospedale di Agropoli sono stati assegnati sei posti di terapia intensiva, come più spesso nel corso del programma, Franco Alfieri ha ribadito, ma a quanto pare nell'albo pretorio dell'Asra Salerno non c'è un documento che attesti tale assegnazione, come ha sottolineato anche il presidente del Consiglio, Massimo Laporta. Dive essere utile ai nostri sindaci l'appunto che sto per fare. Il piano ospedaliero, l'ultimo, ha avuto un aggiornamento nel 2018, Agropoli è rientrata già come atto azientale nel 2017 con il decreto che ha fatto direttamente il direttore generale, mentre il grande nostro problema è che l'ospedale di Agropoli è pronto soccorso con 20 posti di medicina, sindaco Alfieri. Non abbiamo sul piano i sei posti di rianimazione. Questa è una cosa che dobbiamo sapere e ci dovete combattere perché è importante che voi state sul pezzo tutti i giorni. Io dico che la politica ha fatto. Oggi è la direzione generale che deve attuare il piano con un atto aziendale che secondo me va riaggiornato. Questo è un mio pensiero, proprio in virtù della camera iperbarica dei sei posti della rianimazione. La cosa che dovete incidere è sulla programmazione. Non c'è un atto se guardiamo l'albo preditorio dell'Asile Salerno che ci dà quello che voi ci dite. Io so che è nella programmazione, però facciamolo ufficializzare il sindaco Coppola. Lei è nella conferenza dei sindaci e tra i cinque sindaci che si siede con Mario Iervolino. Stasera qui Mario Iervolino non ci sta ed è importante che glielo deve ricordare tutti i giorni. Agropoli ha bisogno di un pronto soccorso attivo almeno alla pare di quello del 2004 perché altrimenti le vite non le salviamo proprio perché non ci sono le condizioni soltanto della rianimazione come diceva giustamente la dottoressa Lambasona ci vuole una sinergia di vari servizi che ci portano poi ad avere quel pronto soccorso attivo che ci auguriamo tutti di avere. Dunque è stato chiesto al primo cittadino di Agropoli di impegnarsi in prima persona vista la sua carica importante di componente del comitato dei sindaci che interloquiscono direttamente con il direttore generale dell'Asra di Salerno Mario Iervolino di far sottoscrivere un documento che possa attestare la validità dell'assegnazione dei sei posti letto di terapia intensiva che tanto potrebbero fare in futuro per la riattivazione completa del pronto soccorso. Allora abbiamo avuto dei problemi con Iervolino che non è stato bene per un lungo periodo avuto problemi seri quindi non siamo riusciti ancora ci siamo visti una sola volta e abbiamo richiesto naturalmente una convocazione purtroppo alcuni amministratori si sono dimessi quindi siamo rimasti praticamente in tre da cinque siamo rimasti tre amministratori altri due si sono dimessi e quindi però abbiamo appuntamento con Iervolino nelle prossime settimane ma ripeto gli incontri non sono stati possibili perché lui ha avuto dei problemi di salute però alla prima occasione certamente vi aggiornerò quindi ci sarà la possibilità magari nei prossimi giorni insomma di contattarlo e eventualmente incontrarlo ok grazie